Morello, Bagnara Calabra per anni, ha ospitato gli alunni del comprensivo Ugo Foscolo. Da qui sono passate intere generazioni che si sono formate al cospetto di maestri di insegnamento e di vita. Ed è qui, in queste aule, nella palestra, negli ampi spazi, nei corridoi e nei saloni, che in tanti conservano ricordi indelebili e che ancora oggi guardano al passato con nostalgia e con riconoscenza per una scuola che è stata per molti non solo il primo vero approccio verso il mondo esterno, ma soprattutto un punto di riferimento per studenti, insegnanti e genitori. A guardarla oggi la struttura sembra una nobile decaduta, qualche acciacco, ma nella sua imponenza si mostra ancora austera e allo stesso tempo disponibile ed accogliente. E chissà se in futuro, speranze ed auspicio di molti, si potrà ancora sentire l'allegro vociare dei bambini e le voci autorevoli dei docenti. Da Palazzo San Nicola fanno sapere che è pronto un finanziamento importante per rimettere a posto le cose, ma qui, a queste latitudini, la gente comincia a perdere le speranze e attende l'avvio dei lavori per convincersi che tutto tornerà come prima. Al momento i cortili della scuola sono diventati una discarica a cielo aperto. C'è di tutto, contenitori dei rifiuti accatastati, un lettino, sedie a rotelle, un divano e un frigorifero e poi ancora cestini arrugginiti, pezzi di mobili e tanto, tanto altro. In uno dei due cortili sono addirittura parcheggiati dei mezzi, un furgone e una gip, appartenuta probabilmente alla protezione civile. Ed in mezzo a tutto questo degrado, lo sconforto lascia il posto all'amarezza. Chi ha depositato all'interno dei due cortili tutto quel materiale e chi dovrebbe intervenire per ripulire e sistemare gli spazi all'aperto che fino a qualche anno fa ospitavano i giochi dei bambini e in estate i ragazzi dell'Unitalsi. Ecco, se il plesso Morello deve rinascere, si comincia a ridargli decoro. Il rispetto delle regole non lo si può chiedere ai cittadini se prima chi è chiamato a dettare e a far rispettare norme e precetti non lo fa, bonificando un sito di proprietà comunale che senza ombra di dubbi alcuno merita maggiore rispetto.